Speriamo che sia la svolta buona perché dopo tutti questi anni che si hanno preso in giro, aspettiamo. Un giorno storico per gli ex operai isochimica dopo 30 anni chiedono giustizia. Qui nell'aula allestita al centro sociale Samantha della Porta si apre il processo isochimica. 29 indagati alla sbarra tra amministratori comunali, isochimica S.p.A., addetti alla bonifica, ASL e responsabili delle ferrovie dello Stato. Nella prima udienza di stamattina si costituiranno centinaia di parti civili tra cui anche Lega Ambiente e l'associazione Lotta per la vita di Borgo Ferrovia. Noi speriamo che questo processo possa avviarne un altro, appunto quello dell'intervento non più differibile da parte delle autorità competenti per finalmente fare giustizia di tanti casi analoghi a questo. Stamattina daremo voce alle persone che non ci sono più e alle persone di Riune che si sono ammalate e che continueranno ad ammalarsi, come mio padre che combatte di adenocarcinoma polmonare a terzo stadio. Grazie per questa mattanza, vergognatevi di esistere soltanto uno dei cartelli esposti dagli operai qui all'esterno dell'aula del centro sociale Samantha della Porta. Oggi è una giornata che inizia con il suo cammino verso una soluzione che io ritengo debba essere diversa da quella dell'eternite che dia giustizia. All'esito di quasi due ore di udienza il collegio giudicante ha deciso la sospensione della trattazione fino alle 13 per dar modo agli avvocati degli imputati di presentare le eccezioni alle deduzioni delle parti civili che si sono costituite in udienza. Avevamo come collegio difensivo fatto una richiesta assolutamente tranquilla e pacifica, cioè quella di un breve termine per poter esaminare gli atti di costituzione. Si è proceduto diversamente ma ciò nulla toglie la nostra fiducia nella giustizia. C'è un dramma sociale assoluto quale quello dell'isochimica. Sono da tempo convinto che la sede penale non è quella giusta per ovviare e cercare di risolvere un problema così acuto, tragico e drammatico.